Io non direi che si concigliano sport e cultura, ma che lo sport è cultura a tutti gli effetti. Lo sport è un'espressione di cultura tanto nella bellezza del gesto atletico, dell'armonia, dei gesti tecnici o della bellezza di un movimento tattico, quanto davvero nell'espressione e nella produzione che poi allo sport segue di narrazione, di letteratura, di cinema, di teatro e quant'altro. Quindi credo che occorra restituire la dignità del gesto sportivo, la dignità dell'aspetto culturale. Spesso cito che ci sono dei danzatori che normalmente sono considerati espressioni di cultura molto alta che si allenano esattamente come degli atleti. Quindi davvero per me la E, sport e cultura, la E è accentata.